Tra i grandi appuntamenti di questo weekend che vi abbiamo raccontato dai nostri canali, ce n'è uno in particolare che riguarda il mondo dei cavalli ed in particolare siamo in diretta da Piazza di Siena, quindi da Villa Borghese al cuore di Roma e c'è Marco Terrenata a cui cedo immediatamente la linea. Ciao Gabriele, hai detto benissimo, questa è stata la settimana anche di Piazza di Siena, siamo qui nel cuore di Villa Borghese, come vedete anche oggi una bellissima giornata, tra l'altro tra poco sta per iniziare uno degli appuntamenti più importanti di questo sabato con il trofeo l'orropiana che è una categoria mista, ma noi siamo reduci da un bellissimo pomeriggio con l'Italia che ha conquistato un secondo posto davvero fantastico nella Coppa delle Nazioni, Italia che non vinceva la Coppa dal 2018 e che ha ottenuto un grande risultato soprattutto in chiave dei prossimi appuntamenti, tra questi l'europeo che si disputerà a Milano quest'estate e che assegnerà i posti per la prossima Olimpiade. L'Italia è abbattuta soltanto al barrage conclusivo dall'Irlanda, dopo due match davvero emozionanti con il pubblico qui impazzito a Villa Borghese, Italia e Irlanda che hanno concluso le due match con otto penalità e lo vediamo proprio nelle immagini, i percorsi di Francesca Ciriesi che è stata grande protagonista con un netto e con quattro penalità nella seconda match e poi protagonista nel barrage conclusivo insieme all'irlandese Michael Pender. Un errore decisivo alla fine che ha compromesso la possibilità dell'Italia di vincere la Coppa delle Nazioni, ma il CT Marco Porro e tra poco lo ascolteremo, è stato davvero soddisfatto della prestazione dei vari Cavalieri Azzurri, i due fratelli Garofalo, Antonio Maria e Giampiero, Giampiero soprattutto autore di due netti e poi anche Emanuele Gaudiano che dopo una prima match molto buona ha ottenuto qualche piccolo errore nella seconda, ma complessivamente davvero una grande Italia, abbattuta come detto dall'Irlanda con al terzo posto la Francia, Irlanda che tra l'altro ha vinto qui per la prima volta la Coppa delle Nazioni a Piazza di Siena, Italia che è la squadra che ha vinto in assoluto più edizioni della Coppa delle Nazioni, ma come hai detto insomma era cinque anni che non era così protagonista e allora davvero una grande prestazione per la felicità del Presidente della FISE Marco Di Paola che naturalmente guarda con grande fiducia al futuro e dunque alla possibilità di tornare a disputare le Olimpiadi dopo quasi vent'anni perché l'ultima volta abbiamo partecipato ad Atene del 2004. Allora dopo aver detto tutto quello che è accaduto ieri io direi di andarci ad ascoltare le interviste realizzate ieri proprio dopo la gara con i protagonisti, anche con il Presidente Marco Di Paola e con il CT Marco Porro, dunque possono partire dalla regia. L'anno scorso era il mio primo anno, ho preso una squadra non tanto in forma perché erano retrocessi, non avevano molta fiducia in loro stessi. Ho fatto un anno di lavoro insieme a loro, siamo ricaricati, abbiamo trovato dei ragazzi giovani, talentuosi, li abbiamo preparati da un anno, ci siamo ripresentati e questa volta è andata bene. I ragazzi li abbiamo, devo dire ci mancano ancora qualche cavallo, ci mancano ancora qualche cavallo però i ragazzi ci sono, hanno voglia di fare, io sono contentissimo di seguirli, di lavorare con loro e proviamo a fare il meglio. E' stata veramente una bellissima giornata, poi devo ringraziare il pubblico di Roma perché erano in tantissimi, li tifavano, ci hanno tifato, è stata una giornata veramente che ricorderò per tanti anni. La squadra che sta prendendo esperienza quindi ci sta, le barriere sono rotonde, possono cadere, questa volta è caduta l'Italia, la prossima volta può capitare l'Irlanda. Abbiamo vinto dei barrage, questa volta purtroppo è andato giù a noi, però è il nostro sport, è quello che ci piace. E' stata un'emozione grandissima, per me era la prima volta qui in Coppa delle Nazioni e devo dire che, ora lo posso dire, è veramente una cosa unica. C'è stato il barrage, abbiamo sfiorato la vittoria, quindi c'è un po' di rammarico per il secondo posto, però allo stesso tempo credo tutti noi siamo molto contenti perché veniamo da un periodo un po' difficile e comunque è un buon risultato. Ed è la prima gara importante dell'anno e partire così dà morale. Sapevamo che non era una gara semplice, abbiamo dato il massimo e grazie a Marco che ha creduto in noi, bravi ragazzi che si sono presentati pronti, bravi cavalli che sono stati fantastici e è andata così, quindi siamo contenti. Devo dire che i cavalli hanno saltato tutti molto bene, c'era una grande unione tra noi della squadra e quindi sono veramente molto contento di questo. È stato molto emozionante sicuramente, poi abbiamo trasformato questa emozione in motivazione, ce l'abbiamo messa tutta e è andata bene. Se stamattina ci avessero detto arrivate tre o tre, ci avremmo messo la firma. Arrivato veramente a un passo da vincerla, c'è un figlio di rammarico, ma la gioia è veramente molto grande. Quest'anno ci sono appunto i campionati d'Europa a Milano in casa e step per step vedremo di arrivare nel miglior modo possibile. Questo devo dire che è stato un primo passo molto buono. È stato veramente un pubblico eccezionale, caloroso, si è sentita la presenza prima, durante e dopo la gara e fare un concorso, una gara con questo tipo di pubblico è veramente molto emozionante. Siamo a Piazza di Siena che è l'evento internazionale più ambito al mondo, ma per noi italiani vale doppio, poi io sono pure romano quindi triplo. arrivare al terzo barrage per sfidare il primo e il secondo posto è un grandissimo risultato, devo dire è un pizzico di sfortuna, ma moralmente potrei dire che lo sforzo vale quasi la vittoria di questa Coppa delle Nazioni ed è estremamente importante perché noi abbiamo vinto il 2017, abbiamo vinto il 2018, ma un secondo posto penso che mancava da qualche decennio, quindi abbiamo messo pure questa baglierina. Piazza di Siena è sicuramente un evento eccezionale, per noi italiani è l'evento in casa, quindi è importantissimo, però l'obiettivo stagionale è la qualifica per Parigi 2024, manca da 20 anni perché l'ultima è stata Atene 2004, possiamo farlo, l'abbiamo dimostrato oggi perché siamo stati competitivi fino alla fine, è l'anno che si potrebbe fare, speriamo che la fortuna ci accompagni perché il nostro è uno sport dove c'è tanta fortuna, però i ragazzi stanno mettendo il massimo impegno, l'organizzazione, il massimo sforzo e quindi sicuramente non avremo rimorsi. Allora abbiamo sentito proprio le parole dei protagonisti, sfortunata Francesca Ciriesi con Cape Coral, dunque l'errore decisivo che ha regalato la vittoria all'Irlanda, ma resta davvero un grande risultato, spazio però dunque anche ai vincitori, allora andiamo ad ascoltare proprio l'intervista che abbiamo realizzato a Michael Pendler, il cavaliere protagonista del barrage conclusivo su Calais, in sella a Calais che ha dunque vinto il barrage contro la nostra Francesca Ciriesi, sentiamolo. senti che sei pronto per farlo. Penso che è un sogno che è venuto a vivere qui in Piazza di Siena. È un show che si cresce, guarda sulla televisione, per competire e per vincere la Coppa della Nazione. Il barrage, ha detto Pender, è stato ancora più bravo Calais. Dunque è stato decisivo per il successo finale. Per lui è un sogno che diventa realtà vincere proprio qui a Piazza di Siena. Lui che guardava i concorsi di Piazza di Siena in televisione. È davvero un clima eccezionale che ha potuto vivere qui insieme alla sua squadra. È un trionfo davvero fantastico per l'Irlanda, che vince per la prima volta la Coppa delle Nazioni in Irlanda, che è già qualificata alle prossime Olimpiadi. Dunque anche questo è un ottimo risultato per noi, perché noi siamo i primi, in pratica, delle Nazioni non ancora qualificate a Parigi 2024. Dunque vedremo quello che accadrà all'Europeo, appunto a Milano, a San Siro, che sarà davvero un grandissimo evento che continueremo a seguire. Tra l'altro finisco il collegamento dicendo quello che ci attende oggi a Piazza di Siena. Abbiamo già detto della gara che è in corso in questo momento. Il trofeo è l'Europeana. Oggi sarà tra l'altro una giornata dedicata a un grandissimo campione, un grandissimo cavallo, Alifax, che dice addio alle competizioni, ma ha ottenuto davvero grandissimi risultati. E poi questo pomeriggio, nel tardo pomeriggio, anche lo spettacolo delle sei barriere, una competizione da seguire davvero molto bella e molto spettacolare. E qui il pubblico è davvero tantissimo. È la giornata bellissima. Da Vila Borghese, da Piazza di Siena è tutto. Grazie a tutti.